che da un punto di vista anche suquisitamente anagrafico, con i suoi 86 anni, ha trascorso buona parte del Novecento ed è un testimone quindi di quello che è avvenuto nel corso del secolo scorso, è uno studioso di calibro, di valvia e di livello europeo e uno studioso tedesco ed è, abbiamo ritenuto, che in occasione di una ricorrenza come il ventesimo della caduta del muro di Berlin, in occasione di un fatto storico che è sicuramente l'importanza capitale per la storia dell'Europa e per la storia mondiale, perché per la Germania ha avuto una rilevanza particolare, perché la Germania divisa in due, spaccata in due, è stato l'emblema del dramma del vecchio continente, del secondo dopoguerra, fosse un interlocutore sicuramente all'altezza di una lettura, di una chiave interpretativa che abbracciasse un periodo, un arco epocale di lunga durata. Ecco perché il Comune di Trieste ha pensato a Ernst Nolte, in seguito dell'intervento di Nolte, in seguito dell'intervento di Nolte... Vergogna! 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 Non vi vogliamo sentire parlare! Non avete diritto di parola! Vergogna! 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 Ma sei un fascista! E' un fascista, si vergogni l'entere qua, vuole lo sentire! Ma saprà meglio che quello che è lei! Io la riprendo, l'ho ripreso tutto! Ho ripreso tutto! Ho ripreso tutto! I simuli su a fronte, a fronte! Avete fatto la scineggiata da adesso? Ma ma che scineggiata? Ma che scineggiata! Ma se stimeggiata! L'ho fatto! Ma che scineggiata! No, adesso dovete uscire. Voi, fuori i nazisti. Fuori, fuori i nazisti. Fuori, fuori i nazisti. Fuori, fuori i nazisti. Siete il pezzo di Trieste! Merda! Fuori, fuori i nazisti.